Buongiorno a tutti, oggi è martedì 18 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su Fuzzimib e DAX. Allora, dove siamo arrivati? Siamo arrivati qui. Siamo arrivati al fatto che l'intuizione del t era corretta e siamo arrivati a 1, 2, probabilmente 3 t-3 inversi e che da qui sta partendo un nuovo settimanale. Nella realtà, di fatti, potrebbe partire, come possiamo vedere da questo grafico, un secondo t settimanale. Questo è il primo, questo è il secondo. E come vi dicevo, mi aspettavo un tentativo di spinta a rialzo, che però in mattina poi è stato cassato abbastanza violentemente per il fatto che bisognava far partire un secondo t-2 inverso. Primo, secondo, ok, t-3 intendo, partenza dell'alto. Questo è partito. Già la violazione di questo piccolo swing a 19.982 si poteva valutare un long, ma, se oltre alla violazione che c'è stata, 990, 982, esatto, fossero poi seguiti volumi. Non potevamo sapere se ci sarebbero stati volumi o meno, e dato che il secondo t-3 è arrivato a 28 barre, nella realtà, di fatti, ha tutto lo spazio ancora per chiudere. In questo momento, che sono le 7.48, i future sono a meno 66 punti. Quindi, si potrebbe aprire un'area a 19.928, che non comporterebbe nulla di particolare, perché sarebbe comunque qui, certo molto vicino alla potenziale partenza del terzo t-3, che sarebbe effettivamente quella a 19.915. Questi già fungono da piccoli swing che ci permettono di capire come orientare eventualmente la giornata, con tutti i rischi che ne consegue per il trade, per il fatto che siamo comunque ad agosto, quindi volumi molto bassi. Qui, tra l'altro, di nuovo farà da spartiacque proprio la media mobile a 50 periodi che è andata qua, in Death Cross. Segnale non bello. Se però si iniziasse a sparare verso l'alto, anche se si rigirerebbe a tagliare di nuovo in Golden Cross quella a 200, inseriamo a posto, il discorso è che come vedete, anche soltanto con un semplice Fibonacci, possiamo vedere che questo livello a 19.974 ha fatto da resistenza. Ho postato anche nel corso della giornata, anche sul canale YouTube, non soltanto su quello Facebook, un po' di aggiornamenti in modo da dare un'idea a tutti di che cosa faccio anche con le persone che mi concedono più tempo e che decidono di lavorare nel mio gruppo trader, nel gruppo trader che coordino, ok? Non nel mio, nel gruppo trader che coordino, perché è di tutti nella realtà dei fatti. Per quanto riguarda il discorso candele giornaliere, molto semplice, qui è possibile che sia appartenuto a qualche cosa, anche se anche tra T e T può esserci comunque, come al solito, un raccordo. L'inverso è arrivato al terzo T, quindi potenzialmente può far partire ancora un T più 1 inverso per il fatto che comunque siamo stati sotto questo massimo a 20.471 già per tre candele. Quindi abbiamo un T meno 1 che eventualmente già, da già anche la partenza del secondo T più 1. Per quanto riguarda il DAX, DAX molto più forte, vedete che anche in questo caso siamo andati in death cross qui, ma poi stiamo uscendo dal death cross. Situazione molto simile con violazione dello swing dato a 12.934, ma che dovrebbe essere seguita da volumi e in questo momento, ripeto, siamo a più di un'ora dall'apertura, siamo a meno 35 punti, quindi bisogna sempre fare attenzione a questo minimo, da cui è partito il terzo T meno 3, a 12.904 che ci dirà, farà la spartiacque tra una giornata a rialzo o a ribasso. E anche questo è interessante per il fatto che qui abbiamo già non soltanto la chiusura tranquilla del nostro secondo T meno 3, ma abbiamo anche tutti i crismi per la partenza del terzo T meno 3, sempre di indice. Altra cosa, inverso, 1, 2, 3, andando già non solo sopra i 12.934, ma anche sopra questo swing a 12.958, avremmo potenzialmente un vincolo a ribasso del 4 T meno 3 inverso, e quindi a rialzo, è spinta a rialzo per il nostro settimanale, nato qua. Io ho messo T meno 1, ma ormai è un pochino poco, ok? Anche qui facciamo così e siamo più corretti. Per cui, quando è che anche in questo caso su DAX si sviluppano massimi eventuali di un T più 2 che può fare da chiusura di un semestrale di un T più 4 e che quindi deve andare a chiudere con eventualmente un T più 1 ribassista, si sviluppano all'inizio, nella prima parte del ciclo, quindi spinta verso l'alto, successivamente il ciclo collassa. I massimi di questo T più 2 potranno essere fatti tra la prima parte e la parte intermedia, difficilmente sull'ultima, anche se abbiamo una forte spinta a rialzo anche su DAX. Direi che dovremmo essere a tutto, quindi vi ho dato anche gli swing e gli swing inversi per controllare la giornata, fate soltanto sempre attenzione tanto ai volumi e quindi utilizzate stop comunque stretti o come da metodo operativo di ciclità evoluta. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.